Con Andrea Rudi, amministratore delegato ESA, parliamo invece di quelle che saranno le novità che presenterete a sicurezza, ma che avete già, con un bel beneficio di 5 mesi, presentato qui oggi. Sì, oggi abbiamo ritenuto forse importante iniziare a presentare ai nostri principali clienti quelle che saranno le novità che introdurremo da qui fino all'evento di sicurezza 2012. Le novità sono tante, sia per quanto riguarda la gamma intrusione, dove ESA svolge da anni, sempre storicamente, un ruolo molto importante, sia nella gamma TVCC in forte espansione e anche nella gamma incendio. Per quanto riguarda le gamme di prodotti storiche per ESA e tradizionalmente commercializzate già da tanti anni, abbiamo introdotto quelle che saranno le novità sulle piattaforme hardware delle centrali d'allarme. Nella gamma DSC, ad esempio, abbiamo invece presentato la nuova tastiera touchscreen, con un display molto grande e un design molto accattivante, che riteniamo possa soddisfare quella fascia del mercato, soprattutto residenziale, esigente e attenta a questo tipo di soluzioni. Una novità importante è rappresentata dall'introduzione, nella nostra gamma prodotti, della linea di centrali Texcom. Texcom è un marchio già conosciuto sul mercato italiano, con il quale abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione per la distribuzione in esclusiva delle loro centrali. Oltre alle centrali, chiaramente, commercializzeremo anche la loro gamma di sensori, molto affidabile, grado 3, quindi già certificate conforme a tutte le normative che verranno recepite anche in Italia, così come la gamma di centrali. Abbiamo parlato anche dei sistemi di analisi video, sui quali puntiamo molto. L'evoluzione tecnologica, l'affidabilità di questi sistemi, oggi ha raggiunto dei livelli tali da poter veramente basare la protezione perimetrale, oltre che sulle tradizionali protezioni da esterno, anche su sofisticati sistemi di analisi video molto affidabili. Abbiamo parlato anche di nuovi DVR ibridi, invece, per approcciare quella fascia di mercato, di clientela, che non ha ancora sufficiente dimestichezza con queste tecnologie, quindi con dei prodotti, dei sistemi estremamente facili da installare, da configurare. Ecco, queste sono, diciamo, in poche parole, le principali linee di prodotto, chiaramente le andremo ad affinare nei prossimi mesi per essere pronti poi per sicurezza con i prodotti definitivi. Per l'antincendio? L'antincendio, sì, certo, l'antincendio, abbiamo presentato oggi una centrale analogica indirizzabile a quattro zone, che si affianca, diciamo, a quelle già esistenti, a una loop e a due loop, oltre alla gamma di tradizionale, di rivelazione convenzionale. Questo, diciamo, a completamento della nostra gamma centrale. Benissimo, le abbiamo sviluppate tutte e tre e quindi avranno avuto dovizia di informazioni. Grazie. Grazie. Grazie.